Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo, infatti, che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto, fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare. Ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, diceva Gesù, a che cosa è simile il regno di Dio? A che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape, che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero, e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.